Ad Agropoli è stata illuminata via Gregorio. Le parole del sindaco Adamo Coppola dopo l'inaugurazione abbiamo illuminato via Gregorio strada di collegamento tra lo svincolo Agropoli Nord e località Mattine. Un tratto da sempre al buio e per questo pericoloso in passato anche teatro di incidenti. La nuova illuminazione va a dare risposte alle istanze di numerosi cittadini, un impegno mantenuto annunciato durante l'inaugurazione della rotatoria di Mattine lo scorso febbraio. Le periferie sempre più centrali continua Adamo Coppola nella nostra azione amministrativa. Nelle prossime ore verrà ripristinata definitivamente anche l'illuminazione della rotatoria nei pressi dello svincolo Agropoli Nord.